Si aprono nuove prospettive di cura per il tumore della mammella. Noi ne parliamo con un esperto di questa patologia, il professor Gianpaolo Bianchini dell'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano. Professore, l'AIFA ha appena autorizzato una nuova indicazione di un farmaco innovativo che è Trastuzumab de Ruxstecan per un gruppo di pazienti con tumore della mammella. Ci spiega esattamente, diciamo d'ora in avanti in Italia, in quali persone con tumore al seno si potrà utilizzare questo farmaco? Questo nuovo farmaco verrà utilizzato nelle donne con carcinoma mammario metastatico che sono negative per l'espressione della proteina R2 come classicamente definita. Quindi sono i tumori che noi chiamavamo R2 negativi, ma che hanno una debole espressione di R2. Quindi appartengono a questa nuova categoria cosiddetta dei tumori R2 low, dal termine inglese che identifica appunto questa bassa espressione. Le pazienti devono aver ricevuto una precedente linea di chemioterapia per malattia metastatica e complessivamente rientrano in quelli che sono i sottogruppi della malattia triplonegativa e recettori positivi R2 negativa come precedentemente detto. Ecco, ma che cos'è esattamente questo farmaco Trastuzuma de Ruxecan e come agisce? Ce lo spiega? Trastuzuma de Ruxecan appartiene a una nuova classe di farmaci estremamente importante in oncologia che sono gli anticorpi coniugati con farmaci. In particolare questo è un anticorpo che riconosce la proteina R2. A questo anticorpo sono stati legati diverse molecole di un citotossico, quindi una chemioterapia, con un linker che è clivabile, cioè che può essere erutto. Essenzialmente il farmaco quindi funziona indirizzando l'anticorpo verso il bersaglio della cellula portando a un rilascio di questo chemioterapico principalmente nel sito dove c'è il tumore e uccidendo quindi in modo più preciso le cellule grazie a un modo più intelligente di dare una chemioterapia. La decisione dell'AIFA si è basata sui risultati di uno studio molto importante pubblicato sul New England Journal of Medicine e che si è meritato addirittura una standing ovation quando è stato presentato la prima volta al congresso americano di oncologia. Si tratta dello studio Destiny Breast 04. Ci racconta che studio è ma soprattutto che risultati si sono ottenuti contro Stuzuma de Ruxecan in questo trial. Lo studio ha ruolato circa 550 pazienti con una randomizzazione 2 a 1 a favore della terapia sperimentale confrontando questo farmaco contro quella che era la chemioterapia come miglior scelta dell'investigatore. Bene, questo studio ha mostrato una chiarissima superiorità del farmaco sperimentale rispetto al farmaco di controllo sotto tutti gli endpoint clinici che noi consideriamo rilevanti. il tasso di risposte obiettive, la sopravvivenza libera alla progressione e cosa più importante di tutti la sopravvivenza globale. Se andiamo nei dettagli noi abbiamo che per esempio il rischio di progressione è ridotto in termini relativi del 50%, la sopravvivenza e quindi il rischio di mortalità è ridotto in termini relativi del 36% con un incremento della mediana di sopravvivenza di 6 mesi e il tasso di risposte obiettive è triplicato arrivando a un 50% di risposte obiettive con questo farmaco rispetto al 16% che è il tasso di risposte obiettive che si ottiene in questa popolazione con le chemioterapie classiche. Questa provazione di Terastuzzo de Ruxecan anche per il trattamento del tumore della mammella R2-Law avrà implicazioni quindi anche sul piano diagnostico? Assolutamente sì perché come vi ho detto prima in qualche modo noi abbiamo una nuova categoria di pazienti che deve essere identificata in modo ottimale. In particolare questi tumori che noi oggi chiamiamo R2-Law sono tumori che esprimono questa proteina a un livello che non è altissimo e non è nemmeno bassissimo. In qualche modo il test che noi utilizziamo per identificare le pazienti è stato pensato ed è stato sviluppato per identificare un'altissima presenza di questa proteina. Quindi stiamo ancora lavorando nell'ottimizzazione di questo test e io non escludo che all'ASCO 2024, quindi quest'anno, potremmo vedere dei dati che addirittura espandono il beneficio possibile di questa terapia a un sottogruppo di pazienti che ha un'espressione ancora più bassa di quella che oggi utilizziamo per candidare le pazienti al farmaco. Quindi è ancora un processo, è fondamentale saper identificare in modo corretto le pazienti, ma rimaniamo attenti al fatto che questo farmaco ha ancora probabilmente delle sorprese da darci e potrebbe identificare una risposta anche in tumori che esprimono veramente bassissime quantità di proteina sulla sua superficie. Dunque professore, per concludere in sintesi, come cambiano le prospettive delle persone affette da tumori della mammella Arduelo con la disponibilità di questa nuova arma terapeutica, quindi Trastuzio de Ruchstekan? Oggi abbiamo donne che possono vivere più a lungo con una qualità di vita mantenuta e questo è un evento estremamente importante che si aggiunge al grande miglioramento che abbiamo assistito negli ultimi 20 anni nella gestione anche delle donne con malattia metastatica con tumori della mammella.